ciao fragoline e ciao fragolini allora finalmente è arrivata diciamo la tipologia dello shopping tanto atteso dato che sta sposta diciamo spopolando sui social questo sito questo diciamo chiamiamolo sito cinese allora ho voluto comprarlo anch'io quale c'è sempre i gatti che devono cercare di aprire il pacco comunque ho comprato qualcosina anch'io sul sito temo questo sito che stanno diciamo tutti lo stanno dicendo in più lo vedi sui social eccetera volevo provare anch'io volevo vedere se ero uguale a shane la spedizione quanto ci mette e tutte queste cose qua allora preciso una cosa che il pacco a me non mi è arrivato come arrivato alle altre tipo arancione con la scritta timo ma mi è arrivato così questo pacco di temo che sembra il pacco di shane infatti ho detto ma scusa e sembra shane boh a me è arrivato così calcolate che ci ha messo una settimana più o meno per arrivare per cui diciamo che è stato anche veloce ho preso non praticamente sul sito come faccio su shane ma qualcosina per provare per vedere le cose che mi piacevano di più ci sono tanti sconti questa roba tutta scontata i prezzi ve li scrivo di fianco perché ce l'ho sul telefono e non me le ricordo a memoria ogni volta che tu compri ti ricarica il credito così almeno lo sconto che va sul sito in poche parole c'hai tanti sconti eccetera non lo so ovviamente tutte queste prove queste cose che ho comprato li proverò e vi farò sapere per il momento posso dire una cosa positiva perché ci ha messo una settimana per arrivare il pacco l'unica cosa che non capisco perché a me è arrivato così e non arancione con la scritta ma vabbè proviamo a vedere io l'ho già aperto perché non sapevo che cos'era dato che mi deve arrivare anche il pacco di shane iniziamo con la prima cosa che spunta fuori dal sacchetto che questa cosa gigante che non ci sta neanche nello schermo allora questa è una cuccia che ho comprato per i per i gatti dato che era in promozione era scontata poi l'ho visto detto no è troppo bella la voglia e allora ho detto vabbè proviamo a vedere adesso vediamo com'è l'apriamo direi che è morbida è una cuccia che non so quanto durerà ma sembra carina sembra allora vediamo com'è è così che carina è morbidissima è gigante abbastanza praticamente adesso non so come tanto poi lo vedete nel blog ok devo aprirla tutta perché sennò ok la prodotto questo vi durerà un bel po anche se se ho comprato poche cose ok questa è la banana non mi ci sta dentro è la cuccia banana che è troppo figo perché puoi anche fare così vediamo sì e praticamente resta aperta dentro ci sta il gatto per adesso ce ne stanno due dato che sono piccoli comunque cuccia morbidissimo bella grande pensavo di meno invece sono diciamo soddisfatta molto carina adesso è proposta perché la cuccietta non è male adesso la metto qua di fianco voglio vedere quanto dura poi ho preso ho preso questo questo è per il frigo ce ne sono dentro quattro sono delle tovagliette bianche dove praticamente si appoggiano dentro nel frigo quindi non si sforza quando si mette la roba infatti sono di plastica sono carine infatti così non le apro perché tanto nel blog poi ve le farò vedere bene ed adesso sono così e vediamo se funzionano quando metterò su qualcosa non si può mangiare eccetera poi ho preso questo che per il batter questo è quello che si illumina non so se avete presente comunque è fatto così lo mettete nel batter e si illumina praticamente adesso credo che ci vogliono le pile infatti perché dentro non ci sono lo mettete dentro agganciato al al water con questo cambiate le luci e però io mi domando se metto le pile a fuori ah questo sta fuori e la lucina sta praticamente dentro perché va così infatti ho detto sembra strano se metto le pile come è possibile vabbè comunque ve lo farò vedere nel blog perché questo video è per lo shopping però comunque se volete un altro video di questa tipologia di shopping dove vi faccio vedere dove provo le cose insieme a voi fatemelo sapere per il momento vi faccio solo vedere e basta poi ho preso questo che è praticamente quello che tipo delle faccate dove attaccate e scrivete lo zucchero il sale fatte così costavano poco sono tante da vederle e qua quel gesso scrivi che ne so zucchero lo appiccichi nelle scatoline in poche parole poi ho preso questi che sono i tassolini che si illuminano ne ho presi due uno bianco e un azzurro che anche queste dato che adesso non è buio non posso farvi vedere però se per caso si illuminano vi farò vedere nel blog questa cosa qua sono fatta sono tutti i tassolini adesso li apriamo insieme sono fatte così in poche parole azzurre e sono tutti i tassolini piccolini che si illuminano sono quattro pezzi no cinque pezzi mo spero che il mio gatto non sale sul telefono comunque questo poi ho preso vediamo nei cattolini piccolini quattro carotine queste sono quattro sono quattro non li trovo più quattro quattro carotine che sono per i conigli per farsi che li sgranocchiano per i denti diciamo che è la prima volta che li compro costavano poco ho detto che sembravano carini le ho presi vediamo come come finirà se per caso non vanno bene ovviamente non li compro più li farò vi farò vedere anche questo in un blog e ovviamente vi farò vedere se vi piace se va bene oppure comunque questi sono quattro carotte ah poi ho preso ancora i sassolini però questi sono bianchi uguali ma bianchi ho presi otto pezzi sia azzurri e no di più di otto pezzi comunque azzurri e bianchi li metterò in giardino così almeno lo vedete poi ho preso poi ho preso questi che sono le luci ci vogliono le prese queste le volevo appiccicare adesso c'è il mio gatto che fa casino appiccicare in giardino perché vorrei qualcosa di bello diciamo che illumina l'unica cosa è che dato che a pile io avevo capito che era con la luce del sole e invece ho visto che è venuto a pile per cui sarà complicato adesso vedo lo metto in giardino oppure li metto in camera o anche in sala vediamo un po' poi ok ho preso anche questo ho detto proviamo dato che è la prima volta che acquisto scusate se fa casino allora ho detto proviamo a prendere un vestito della mia taglia io ho preso una it's it's l vediamo perché viene così lo devo provare ovviamente ho detto la prima cosa che ho visto questo comunque questo è il vestito questo è il davanti il vestito è nero e azzurro in poche parole è fatto così adesso sarà difficile farvelo vedere comunque è lungo ma non dovrebbe essere tanto lungo ma massimo fino alle ginocchia il tessuto lo proverò e vi farò sapere se mi va se per caso mi va lo metterò su instagram e vi farò farò la foto lo metterò su instagram e vi farò sapere comunque questo è il vestito che ho voluto provare sperando che mi va perché io poi non voglio rimandarlo indietro per pochi soldi e per un vestito comunque questa tipologia una cosa un vestito un po' diverso un po' speciale non lo so anche se ormai l'estate è quasi finita ma vabbè comunque ho preso quello poi per finire ormai il sacco è quasi finito ho preso questi ho preso questi tre che sono tre ombretti per per truccarmi nell'occhio sono tre colori diversi sono si presentano così mamma mia perché devono fare così nostri datti quindi allora questo è lo 01 lo apriamo vediamo com'è perché l'ho visto vabbè stacchiamo la confezione non si apre neanche perché tanto questo è proprio rompiamola perché tanto non mi serve la la scatola per cui va buttata è uguale a quello di shane come vedete di plastica questo è lo 01 uno questi colori qua con lo specchietto questo è lo specchietto e questo è il colore allora da vedere sembra wow da vedere tutti è un po' duro vediamo se riesco quello sotto ok adesso mi sporco sono tutte e tre allora c'è questo colore qui e questo qua sono praticamente sul rosa vediamo non so se si vede però sembra che sono scriventi non so se si vedono comunque sono praticamente scriventi vediamo ce ne sono dentro i brillantini non so se si vedono ma non penso proprio comunque sembra che scrivono e li dovrò testare per vedere quanto funzionano ovviamente col caldo non so se mi aiutano molto comunque vabbè poi andiamo sul terzo sono tutti uguali cambiano solo il colore scatolina che tanto la strappiamo perché è inutile non riesco ad aprirla poi con le unghie un po' lunghe che sto facendo crescere è un po' difficile è uguale cambia solo ovviamente i colori che ho scelto per provarli tutti ed è così sempre con lo specchietto questo è fatto così questo è più marroncino marroncino scuro marroncino chiaro questo è secondo me su sui miei occhi non stanno tanto bene perché sono troppo scuri io pensavo che erano più chiari di solito sui miei occhi verdi stanno sul sul chiare e poi c'è l'altro ho preso poca roba ma come sempre i video durano sempre tanto c'è l'ultimo che è lo 02 lo ho presi tutti dalla 1 alla 2 e questo qua dovrebbe essere un marrone sì marrone chiare anche questo no è diverso perché sono marroni marroni chiari sono tutti fatti così marroni chiari ovviamente li proverò e poi vabbè li vedete nelle foto vedete nei vlog sono tutte e tre diversi ma con colori diversi ma da vedere già col primo poi con i brillantini che ho sulla mano che lasciano cioè secondo me top sono troppo belli e questi sono quelli che allora non volevo provarli ho visto dalla foto ho detto no le voglio voglio provare a vedere com'è poi costavano poco e loro le ho presi comunque diciamo che questo è quello questi sono gli acquisti che ho fatto fa troppo caldo non volevo registrare il video in questi giorni ma se non lo faccio adesso dopo non posso provare la nuova cuccia e allora ho detto quasi quasi faccio il video chi se ne frega tanto anche solo a finestra aperta comunque farò caldo lo stesso niente fatemi sapere se anche voi avete acquistato da questo sito e cosa avete comprato se vi convince per il momento direi che è promosso appunto sia come spedizione che come diciamo quasi identico secondo me a Shane ovviamente da testare perché sì ci sono tante promozioni ci sono tante cose però sono da testare quasi tutte per cui non so non posso dirvi se è meglio questo o meglio Shane e niente comunque dalla cuccia sembra ottimo cioè da vedere così adesso vediamo quanto dura è anche morbida perché ha il pelo e basta spero che questi acquisti vi siano piaciuti fatemi sapere qual è stato il vostro preferito secondo me la cosa che mi è piaciuta di più è la cuccia a forma di banana per i miei gatti e niente per cui ci vedremo al prossimo acquisto fatemi sapere se volete che acquisto ancora da questo sito e poi vi farò sapere tutto se la spedizione è lenta se ancora va bene oppure non lo so comunque dopo aver sparato tante cagate perché quando fa caldo io ogni tanto sparo cagate noi ci vediamo al prossimo video e niente vi saluto qua ciao